Sì all'isola pedonale nel tratto compreso tra Corso Umberto I, ossia dinnanzi all'ingresso principale di Palazzo del Carmine sino alla chiesa di Sant'Agata al collegio e in generale in tutto il centro storico a seguito di un miglioramento cospicuo dei servizi e delle infrastrutture. Questa è la posizione di Confcommercio in merito alla pedonalizzazione del salotto buono della città oggetto nei giorni scorsi di un incontro tra l'amministrazione comunale, le associazioni di categoria e i commercianti. Con le condizioni che ci sono a oggi del centro storico dove non ci sono servizi pubblici i parcheggi comunque in questo momento sono ridotti in virtù a quello che sono le utenze che vengono al centro storico ovviamente chiudere oggi il centro storico è solamente uccidere culturalmente le imprese che sono al centro. Se invece si fa un progetto di come comunque si vuole portare avanti io faccio una premessa indietro, Confcommercio prima delle elezioni e durante le elezioni ha presentato un programma ben preciso per i suoi associati dove alla base c'era il miglioramento e la funzionalità del centro storico parcheggi, mezzi pubblici, la possibilità proprio di rendere vivo anche con degli eventi e con delle situazioni il centro storico. Facendo quel progetto, unendosi col comune, facendo un progetto valido, riconosciuto che sia fattibile allora quello può essere il percorso valido per andare a chiudere il centro storico ma se non si fanno prima questi servizi non puoi chiudere il centro storico perché vai soltanto a penalizzare quelle attività che oggi sembra strano anche l'utente o il cliente che si ferma un attimo scende e compra qualcosa nel negozio è un'entrata per quell'attività commerciale. Più critica è la posizione del centro commerciale naturale e del centro storico. In principio noi non siamo completamente favorevoli a questa chiusura e diamo anche delle motivazioni ben precise. Riteniamo che la chiusura del centro storico deve essere un punto di arrivo e non un punto di partenza nel senso che è necessario fare tutta una serie di interventi affinché questa operazione si possa effettuare. Mi riferisco in particolare a un miglior decoro urbano, una migliore pulizia della zona, una migliore illuminazione l'organizzazione di eventi per esempio, che questo può sicuramente essere un argomento importante per far sì che quella zona venga chiusa. Però in linea di massia noi non siamo assolutamente d'accordo che si chiuda così SICT sempliciter e invece riteniamo che possa essere un buono strumento quando vengono organizzati degli eventi nel centro storico. Devo dire che in questa prima fase il sindaco Ruvolo ha posto invece una problematica che era un suo programma elettorale e pertanto la vuole fare questa prova nel senso che vuole chiudere questo tratto di corso Umberto. Ora vedremo un attimino, secondo me è una cosa da posticipare anche perché nell'estate sicuramente ci dovranno fare i lavori di ripavimentazione di corso Vittorio Emanuele quindi sicuramente iniziare ora non è proprio il momento adatto. Intanto in queste ore il Comitato dei Commercianti di corso Umberto e Santa Lucia hanno mandato agli organi di stampa una lettera aperta indirizzata al sindaco e all'Aggiunta per ribadire ancora una volta la loro contrarietà all'isola pedonale permanente vista la mancanza ad oggi delle condizioni per poterla realizzare e che gli stessi auspicano da anni. Nella lettera i commercianti sottelinano altresì i danni economici subiti negli otto mesi dei lavori per ripavimentare corso Umberto nell'ambito del progetto Grande Piazza situazione che ha provocato un calo delle vendite, la chiusura e il trasferimento di molte attività commerciali. Inoltre sempre i negozianti del centro storico evidenziano come la chiusura comporterebbe un peggioramento della viabilità e auspicano che la pedonalizzazione di corso Umberto non coincida con l'avvio dei lavori nel tratto di corso Vittorio Emanuele. I commercianti sono comunque fiduciosi che l'amministrazione esaminerà la situazione per evitare nuovi disagi e danni alla categoria.